ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video siamo al secondo video e questo come già letto dal titolo è l'unbox mi è arrivato il cd di tas supreme mio rapper preferito non so se mi sta mettendo a fuoco ragazzi non lo so l'unboxiamo per vedere cosa c'è dentro eccetera quindi iniziamo subito ad averlo allora l'apertura di questi cd io le odio perché naturalmente eccola qua sono sempre qua apriamo il cd ragazzi raga col cd è passata una vita eccola ecco l'ho trovato mamma mia un attimo ragazzi scusate ok aperto ecco l'ho trovato ok ragazzi aperto il cd qua dietro ci sono scritte le canzoni come ogni cd chiedo di sì che tutti ce l'hanno dietro le canzoni molto bella la prima la prima immagine lui è molto creativo poi questo nuovo album e queste sono tutte belle canzoni ragazzi ve lo consiglio di ascoltare tas supreme perché è veramente bravo andiamo ad aprirlo intanto ragazzi se non l'avete visto qua c'è scritto tas supreme con i numeri del nuovo album che si chiama così con numeri andiamo ad aprirlo cd bello ecco ragazzi come dentro allora si è così così è come il dentro vediamo di qua prima vabbè qua non si vede poi qua c'è scritto tas supreme poi andiamo a leggere questo c'è scritto qua e questo ragazzi ha il cd viola ve lo metto dritto viola con su scritto tas supreme sony music tra l'altro ragazzi con la sony l'ha fatto questo cd quindi veramente la sony la sony è buonissima e veramente un altimo cd io non l'ho ancora ascoltato però tanto le canzoni già le conosco andiamo a vedere questo foglietto e vabbè eccolo qua ragazzi allora questa è la magia della copertina andiamo ad aprire ok ragazzi ci sono scritte tutte le canzoni quelle in grande ci sono scritte tutte le canzoni qua cosa c'è? ho foto di una rosa con altre canzoni oh scusate ragazzi poi dopo altre canzoni vabbè credo sia tutto così vabbè credo poi vabbè qua c'è scritto per tutta questa musica non posso non ringraziare tutti quelli in pratica scrive tas supreme ok vabbè spiega com'è andata la sua vita sicuramente senza mia mamma non avrei nemmeno sperato di poter iniziare a fare musica ho sempre avuto il suo rapporto supporto anche quando a undici anni facevo il beat di merda vabbè questo spiega com'è riuscito ad arrivare non lo leggere mai solo per farvelo vedere e poi è scritto prodotto da eccetera e qua bellissimo tas supreme lo andiamo a rimettere qua aspettate ok ragazzi quindi questo è il cd molto bello ok e ragazzi questo video è finito e lasciate un bel like iscrivetevi che faremo altri video tipo domani uscirà un video alle 10 carino comunque intrattenimento come tutti gli altri video che faremo e ciao ragazzi ciao ciao ciao